acuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89 siamo tornati con jogger nella brothercraft bella bella eccoci qua ragazzi più pronti signori oggi ci abbiamo da fare oggi ci abbiamo da fare perché ci abbiamo da fare allora perché jogger cazzo dobbiamo andare a trovare innanzitutto cibo perché dobbiamo completare la casa ma non abbiamo niente per completare ci mancano rocce ci manca praticamente tutto quindi quindi io un tanto facciamo così dobbiamo procurarci del cibo ok praticamente qui sotto se tutto va bene ci dovrebbe essere si vieni a vedere fai vedere anche i tuoi fan guarda che cari guarda proprio il sudore della fronte guarda vai che bello ragazzo allora abbiamo tante cosette belle a questo mi rendo tutto no fammi fa coltesia faccio io tu guarda come se fa perché poi sicuro che pagnotte le pare ne farai mai quindi io comunque c'ho un pezzo di carne cotta che c'ha detto che ci ha detto che il pesce bagliaccio va mangiato crudo e così mi è stato detto e poi non so se ha detto una fregnaccia non lo so ok va bene qua me sa che c'è troppo buio e quindi ne facciamo mettiamo le torcette e sì perché non si metteva quindi ok mettiamo qua signori mi raccomando se volete se volete un altro giro della brodercraft arriviamo minimo a 15.000 like quindi ricordatevi metterlo adesso tra l'altro in descrizione vi ho lasciato il link per giocare a skill se volete scaricarlo è gratuito ve lo lascio in descrizione allora simu ok qua ho ripiantato tutto ci abbiamo 39 di grano allora ok col grano potremmo prenderci le mucche potremmo fare un sacco di cose carine però per il momento io direi di fare il pane ma non mi ricordo assolutamente come cazzarola si faccia eccolo ok simu mamma mia le pagnotte dei pane mi sembra un fornaio porco due è fatto guarda guarda dove stai a fare io non le vedo qui 14 pagnotte dei pane chiede ne do 7 guarda io non le vedo però me le pio stanno 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 7 guarda la ciappate la ciappate perfetto ma mamma mia quanto siamo forti 7 pagnotte ma li vieni dentro che troppo è un po' la mortazza non ce l'ho la mortazza non ce l'ho la mortazza non ce l'ho la mortazza un bel panino e non ce l'ho sai che faccio io con questi diamanti ci hanno consigliato giustamente ok ci hanno consigliato che almeno uno di noi due se deve fa che se deve fa uno di noi due un bel piccone in diamante bravo me coglioni me coglioni non sto sentendo pensavo che di stronzo invece allora famo la terra ce l'ho perché bisogna sempre portarsi della terra appresso quando si scende in grotta e mi serve qua il pane ce l'ho i gocciotti ce l'abbiamo allora andiamocene a dormire e sai dove ti porto oggi dove mi porti indovina mi porti a pescare no no andiamo nel pozzo infernale chi innanzitutto devi sempre chiudere la casa mortacci ed è chiude che far colosseo ok vi ricordate tempo fa trovammo un una fossa un qualcosa di cattivo dovrebbe sta tipo qua io vedo una pecora e tanti cavalli non mi ricordo bene ma doveva stare tipo qua vicino signori ma perché ci sono le pecore che ti stanno guardando malissimo e lo so perché anche di là c'è un buco che cos'è no non era la mi sembra che stava tipo dentro sta qua 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 mamma mia eccolo l'ha trovato si ti ricordi qua senti senti questo simone è questo quattro ricordi ah sì è vero maronne mie quanto madonna mia ti ricordo che se premi shift ti accucci lo so lo sto facendo madonna lo sto facendo a solo a guardarlo ma sto caga sotto veramente impressionante è assurdo rega simon piano piano sempre con shift ma no perché sono un grande no ipoteticamente no esatto possiamo scendere pian pianino se significa pian pianino comunque questi mi riguarda tu scava e io te venga preso io ho trovato il ferro aspetta stai buono davvero eh sì ho trovato il ferro il ferro ci serve tantissimo tra l'altro pure sta roccia qua che non mi ricordo mai infatti guarda o mi cosa c'è penso proprio di sì madonna me ma io sta cosa c'ho paura a farle allora stiamo sempre con determinata calma eh aspetta perché non mi ha preso eh beh no non mi aveva preso il ferro qua qua sopra c'è c'è altro ferro credo eh lo so questo qua mo sai che faccio lo scavo e lo mando sotto e lì mi vediamo dopo ciao belli esatto allora fammi mettere un po di torce perché sennò quelli a casa dicono eh non c'era un cazzo vabbè non c'era tutti i corti però se youtube butta giù i colori i colori noi poco ci possiamo fare quanto cazzo è lungo sto pozzo no io penso che era una cosa assurda quando è scesa mara non è scesa magna no mamma mia oh oh sento rumori stranissimi ed è sta vomitando senti ma quello stronzo il cascato non è morto a me eccolo gli ha rotato lo zombie lui io mi metto la spada non si sa mai no infatti metti la spada che poi ci servirebbe l'arco eh però esatto esatto io voglio fare il robin urco schifo ci piace voglio fare robinude eh robinude perché qua c'è sta ma perché c'è uno zombie che muore allora o c'è la lava qua sotto te lo dico ok o c'è la lava quindi c'è lava eh oh ce l'ho tirato al culo oh mena 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 pezzo di merda oh hai rischiato te lo dico eh mi ha dato una stecca in bocca mi ha dato aspetta ancora non ci arrivo su questo qua porco scusa ma il tuo cazzo cascano si fida una mignota eh so rispondaci mo eh qui qui stiamo dentro le caverne e qua rispondono eh c'è vero un po' del culo a belli non sai che cazzo c'hai da che fa oh l'ho tirato l'ho ucciso con due secchiate d'acqua bravo Mirko grazie ah ma ancora si scende qua ma quanto è profondo sto cazzo di cose madonna ma quanto è profondo bellissimo bellissimo un cazzo io ho paura che bellissimo piano eh piano non spigne che qua si fa male no no massa che roba oh qua sotto c'è bel ferro occhiamo io vabbè io ho la spada vai si si tu con che avrei ho detto a lui ragazzi lo capro io mamma mia namo tranquillo devi stare namo io qua mi aspetto Samara te lo dico guarda qua c'è sta del carbone prendilo lo prendo io di noi si io prendo questo sopra mamma di ragazzi è diventato un espertone da che? oh ne lo so ah ti ci voglio guarda quanto carbone oh prendi prendi che ci serve prendi prendi è pieno eh vabbè Simo con calma è sempre carbone non è che hai trovato 68 kg di diamanti eh eh ho trovato 68 kg di carbone però perché sei stato cattivo quest'anno e ci serve per cucinare per tutto ci serve le peculi le peculi quanto ce n'hai da carbone? 8 milioni aspetta eh 11 è 11 ancora voi a te ok io qua l'ho finito ok finito anch'io finito anch'io finito anch'io ciao che ciao si può venire col creeper no no bastardo pezzo di merda io te lo protegge e oro di quanta robarita robarita quanta robarita guarda quanto cazzo quanta quanti materiali ci stanno mi ricordo un po' capito prende tutto qua carbone eh Simone eh vai laggiù aspetta aspetta il carbone lo prendo ancora vabbè prendo dopo vieni vieni vai vai dove ho messo la torcia vai 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 e guarda in alto che cazzo? ma chi è? attento! chi è? chi è? oh ma dove ero per cazzo eh? è un pipistrello eh c'è batman eh no lascialo perde purello guarda no no l'hai ucciso sei una persona orribile era un pipistrello e mi stava guardando malissimo eh allora che cos'è comunque quella cosa blu? no Simone ma qui non puoi capire i materiali non ne hai idea ma che cosa? ah oh no zombie ecco lo materiale quella sai come si chiama? eh pedulla lapistrazzulis davvero? no non proprio esattamente così proprio o meno comunque è pieno di ferro ma che cazzo hai trovato qua? eh prendi un po' dei materiali prendi 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 un po' dei materiali ma che hai trovato? ah sì vabbè ma io devo combattere sempre i zombie e morire eh vabbè tanto se c'è sta giocare questa mori 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 eh madonna mamma mia qui ci sarà da fare parecchia roba parecchia mamma mia ragazzi guarda di riprenderti pure un pochino di roccia ogni tanto così a buffo perché comunque va bene Johnny allora minchia quanto era ragazzi qua comunque è veramente strapieno di materiali è una cosa assurda no no effettivamente l'apistrazzulis lo possiamo che è? cosa? ma attaccano di polkin dead ma era uno solo no erano due mi so caccavo sotto madonna tutta sta cacciara eh ma hanno preso le spalle alle palle l'hanno preso io ho avuto paura con l'apistrazzulis ci possiamo tranquillamente dipingere le cose e non è male allora prendo l'altro carbone perché ci serve ma io ne so più attunnellate le carbone bene bene guarda 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 il ferro guarda qua posso posso fare il befano adesso porco due ok via 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 questo qua preso ok io mi metto mi metto una torcia almeno faccio un po' di luce allora allora dobbiamo fare così allora questo sentito lo scheletro davvero? sì 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 eh beh ho scritto la pia del culo là sotto oh la c'è lava qui c'è altro carbone e tu neanche te ne sei accorto allora via qua ok c'è sto allora prima esploriamo un attimo qua e vediamo che non si sa mai altro carbone sì vabbè ma quanta roba oh all'altra isdrazzulis eh bravo prendi l'apistrazzulis eh ho presa oh qua c'è un'altra oh Mirko l'altra isdrazzulis prendi prendi madonna quanta bella robetta ragazzi no tu non hai idea di qua quanta roba c'è mettiamo una torcia che rega qua altro che qua 15.000 qua dobbiamo mettere il minardo e mezzo no qua tu non ne hai minimamente idea di quello che c'è ancora carbone no ma lascia perdere il carbone io sto trovando ferro in quantità industriale praticamente ok te lo dico quantità industriale vieni qua da me ci sto ci sto cioè stai? sì sì ok cerchiamo di ricordarci più o meno le strade che stiamo facendo eh vabbè tanto stai mettere le dolce diciamo eh occhio eh ok qui c'è la lapus allora chiudiamo ok ottimo che bello quanta robetta rega comunque oh che c'è diamanti mi? dove? fermo 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 bravo io non me ne ero accorto pollice il super joker dai eh mamma hashtag joker sei figo su un giro vai mamma mia rega vediamo un po' se diamantus oh guarda joker qua allora qua chi ci segue avrà visto una cosa importante se trovate dei diamanti scavate intorno dove li avete trovati perché probabilmente ne trovate altri bene si te fanno le sorprese infatti c'è il carbone bene 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 e c'è tanto carbone fammi scendere qua no ma prima ragazzi devi prendere i diamanti col piccone giusto perché se no facciamo il piccone no no mi spaccio il piccone dai minder culo esatto non ti prende i diamanti ok qua non ci serve niente sicuro? sì sì beh il carbone penso che abbassa scava a carbone ma sì il carbone il carbone il carbone stiamo a posto c'è il ferro sopra te eh no ma io più che altro sono interessato tu prendi quello io sono un attimo interessato io raccorgo tutto qua io sono interessato un attimo qua sinceramente perché se abbiamo trovato i diamanti vuol dire che stiamo sulle sulle coordinate giuste tra virgolette ok e quindi non mi sorprenderei di trovare altro diamante o oro allora guarda che abbiamo trovato che cosa sono queste rosse? ok che stiamo facendo? dovrebbe essere l'ossidiana che serve sia per colorare mi sembra e sia per fare i meccanismi quelli automatizzati cancelli binari bella bella ok aia Simone aspetta mi che ne stai lasciando ferita vai vai continua continua AU ma sei un pezzo di merda vabbè se c'ho pure dei tuzzummi che merda eh eh pezzi di fara morire quante vita hai? c'è boh c'ho quattro cuscitti non lo so eh no i cuscitti devi vincere al massimo se no la vita non te sei eh ma tu sei un pezzo del fango no vedi che sei un pezzo non si dicono certe cose ah aspetta vabbè ci sono le pagnotte c'è ragione eh appunto le ho fatte le pagnotelle mica ho fatte il pagnotta io la mangio che? io sto andando sempre ok dove sei andato tu? eh chiaramente ormai se siamo persi quindi a oro no e beh intanto oro si ma non ti agita perché se l'ho lasciato io significa che non è possibile io mostro più a eh qua ce ne sta altro di oro tra l'altro se tu vuoi mamma mia e se magna champagne eh si champagne madonna dove sto andando porca troia vabbè io sto andando a pegazzi mia comunque va bene così si si poi te li trovi più col cazzo ecco un mese mo eh non so dove sei eh eh altra lava adesso per dirti sicuramente siamo andati troppo in fondo per trovare i diamanti almeno eh scusa grazie ho detto toglietato al cazzo ok secondo me eh siamo andati un po' troppo in fondo ok troppo in fondo allora aspetta che io mi devo fare prima di tutto qualche stecchino dice no sono otto io no no aspetta aspetta ok mi sono rifatto tutto quanto dobbiamo riprendere un po' di carbone ok grazie whatsapp ok perfetto allora ragazzi io direi joker se sei d'accordo che l'appuntamento può finire qua abbiamo trovato i diamanti grazie al joker perchè io non me ne so proprio proprio a coppia mamma mia ragazzi mi raccomando solo per questo 15 mila like sono assicurati no no la la sto giro ci sta sto giro ci sta e mi raccomando l'hashtag so che joker sei un mitico proprio cioè joker sei un mitico ho solo joker cercatori di diamanti fatemi cazzo di fare basta lasciare qualcosa di positivo si si comunque c'ho 11 c'ho 12 di ferro 11 di oro eh 46 di pietra rossa eh e poi ah e c'ho 24 lapis lapis trazzulis signori dobbiamo ancora andare a vedere un sacco di posti dobbiamo rifarci un po' di cose quindi dobbiamo accendere ok il fuoco eccetera 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 ok ok se avete piaciuto ti ricordiamo di lasciare tanti pollicini in su di commentare di condividere al prossimo appuntamento col vostro check-up e joker bella ragazzi bella spolliciate eh ciao 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 ciao